I dipendenti delle aziende pubbliche non vengono a casa tua se non sei tu a chiamarli. La prevenzione è la migliore difesa. Partono da questo presupposto una serie di semplici consigli racchiusi in una lettera aperta per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani, messi a punto dal comando provinciale dei Carabinieri dell'Aquila. Intanto non fidarsi delle apparenze, il truffatore per far sapere la porta e introdursi nelle vostre case, afferma l'arma, ma rivolgendosi proprio agli anziani, può presentarsi in diversi modi. Spesso è una persona distinta, elegante e particolarmente gentile. Dice di essere un funzionario delle poste di un ente di beneficenza dell'Inps o un addetto delle società di erogazione di servizi o un appartenente addirittura alle forze dell'ordine. Ecco dunque un decalogo in pillole che può essere utile. Non aprite agli sconosciuti e non fatevi entrare in casa, rifilate degli estranei che vengono a trovarvi in orari inusuali, soprattutto se in quel momento siete solo in casa. Non mandate i bambini ad aprire la porta, comunque prima di aprire la porta controllate nello spioncino e se avete di fronte una persona che non avete mai visto, aprite con la catenella attaccata. Attenzione a non chiamare utenze telefoniche fornite dagli interessati perché dall'altra parte potrebbe esserci un complice. Tenete a disposizione sempre accanto al telefono un'agenda con i numeri dei servizi di pubblica utilità, così da averli a portata di mano. Non date soldi a sconosciuti che dicono di essere funzionari di enti pubblici. Mostrate sempre cautela nell'acquisto di merce venduta porta a porta. Se inavvertitamente avete a porto la porta di uno sconosciuto e per qualsiasi motivo vi sentite a disagio, non perdete la calma, invitate ad uscire dirigendovi con decisione verso la porta. Cercate comunque di essere decisi, consigliano i carabinieri, sempre nelle vostre azioni. In generale, prosegue la lettera, per tutelarvi dalle truffe, diffidate sempre degli acquisti molto convenienti e dai guadagni facili. Spesso si tratta anche di merce rubata. Non accettate in pagamento assegni bancari da persone sconosciute. Non firmate mai nulla che non vi sia chiaro. Agli anziani viene ricordato anche che in ogni caso, nel dubbio, bisogna sempre chiamare il numero di emergenza 112, che è gratuito e attivo 24 ore su 24. Risponderà un carabiniere in grado di aiutare chi è in difficoltà. Nella lettera, i carabinieri ricordano che nell'ultimo periodo si è registrata nella provincia dell'Aquila una recrudescenza delle truffe in danno di persone anziane, commesse da soggetti che si qualificano come avvocati o appartenenti alle forze dell'ordine.